Intanto vorrei chiamare però Paolo Romano, il Presidente del Consiglio regionale della campagna. Grazie, cercherò di non essere richiamato all'ordine dei lavori, cercherò di essere nei tempi che ci sono stati concessi. Io, prima di iniziare il mio intervento, che è pure io scritto, dove ho cercato già di ridurlo molto, visto il prolungarsi degli interventi che mi hanno proceduto, inizio con il salutare tutte le autorità civili e militari. Stamattina mi è stato fatto qualche domanda in un'intervista che mi è stata fatta da alcuni giornalisti, dove mi si chiedeva se era stato dato il giusto rilievo e il giusto merito al contributo meridionale alla causa di cui stiamo parlando qui stamattina. E ho risposto probabilmente, se oggi siamo qua, è iniziato questo percorso di cui va dato un grande merito al Consiglio regionale del Piemonte, proprio perché si vuole ristabilire questo equilibrio, si vogliono dire le cose come sono state veramente, sono avvenute nel nostro Paese e giustamente dare quel risalto e quell'importanza all'azione posta in essere dai tanti giovani meridionali che sono stati, voglio dire, e hanno avuto un ruolo importantissimo negli episodi di cui parliamo. Io ringrazio il Presidente del Consiglio regionale, l'amico Valerio Cattani, a cui vanno anche i miei migliori auguri di una presta guarigione, e soprattutto al Vicepresidente Roberto Placido per la sensibilità dimostrata nell'affrontare e nel sostenere gli studi sul tema della resistenza dal punto di vista del contributo meridionalistico. E questo è il modo più efficace per tentare di colmare un vuoto storiografico e mettere in discussione la volgata ufficiale che contrappone il vento del Nord all'immobilismo del Sud. Infatti, di tutto quando avvenne nel 1943, sotto alla linea di Monte Cassino, si ricordano soltanto le quattro eroiche giornate di Napoli, della fine di settembre, che valsero alla città per tenere il conferimento della medaglia d'ora al valore militare. E consentì alle forze alleate di trovare, al loro arrivo, il 1 ottobre 1943, una città già libera dall'occupazione nazista, grazie al coraggio e all'eroismo dei suoi abitanti. Napoli fu la prima tra le grandi città europee ad insorgere con successo contro l'occupazione nazista. Eppure nel breve periodo dell'occupazione tedesca in Campania, in Puglia, in Lucania e negli Abruzzi si verificarono numerosi episodi spontanei di resistenza militare, civile e tedeschi. I casi di civili e di militari da parte dei tedeschi furono assai numerosi, in ogni parte del Sud, a differenza che per le strade tedeschi nel centro-nord, che nel dopoguerra sono stato oggetto di tagge giudiziarie e di commemorazioni ufficiali, nel mezzogiorno invece vi è stato un generale processo di rimozione della memoria di questi episodi criminali. E' quello che è accaduto, ad esempio, per il massacro di Caiazzo, sulle cui responsabilità è stata fatta a luce solo di recente, grazie alla ricerca sulla resistenza nel Casertano. Il territorio dei cui provenghi, infatti, e di cui desidero portare una testimonianza, è stato un territorio martioriato, dove in quell'autunno tragico, settembre-dicembre 1993, le vittime civili raggiunsero le 2023 unità, pari al 5,5% di quello di tutta Italia nello stesso periodo. C'è un filo rosso che lega tutti questi momenti di lotta tedeschi, la partecipazione di gruppi di combattenti molto eterogeni, giovani, uomini, donne, cittadini, borghesi, che diede alla resistenza meridionale quel carattere di guerra di popolo, che la rende unica nel suo genere. E' che per questo che Giorgio Bocca ha parlato di un'energia tellurica, di cui non si potevano prevedere gli sbocchi, è la definita resistenza anarchica, indicando l'azione spontanea e provvisa di tutte le popolazioni prive di organizzazioni e o gerarchie. Naturalmente, se oggi siamo qui, è perché il contributo del Mezzogiorno alla guerra di liberazione non fu limitato alla rivolta popolare, visto che migliaia furono i medionali che militarono nelle formazioni partigiane sulle Alpi e sugli Appennini, alcuni ricoprendo ruoli di primo piano. L'occasione di questo convegno impone una menzione speciale per uno tra i più odorevoli protagonisti della liberazione piemontese. Paolo Greco, napoletano, membro del Comitato di Liberazione Nazionale Piemontese, prima e presidente poi, sin alla vigilia dell'insurrezione per la liberazione di Torino, il suo impegno per la pubblicazione del giornale clandestino la riscossa italiana espressione unitaria del Comitato, il suo impegno diplomatico all'interno del Comitato e con gli alleati, la centralità della sua funzione nella preparazione e nell'assessura di tutti i provvedimenti legislativi del Comitato rende fondamentale alla causa piemontese il contributo dei più illustri figli di Napoli. All'altra figura di spicco è quella di Emanuele Esposito, detto sbarazzino, capo di Stato Maggiore della 110esima Brigata Garibaldi, Elio Fontanella Lince, che operava nella prima zona operativa piemontese del Corpo Volontari della Libertà denominata Biellese, ma avente competenza anche per il Vercellese. Accanto a figure di spicco ci sono i tanti ignoti che sacrificarono la vita per un'Italia democratica e moderata. Infatti numerosi furono i meridionali che si arruolarono nel CIL, il Corpo Italiano di Liberazione, che combatte a fianco degli alleati e talvolta li precedette addirittura nella liberazione di alcune zone della pianura padana. E non è da dimenticare il prezioso contributo alla causa della libertà da parte degli internati militari italiani. Migliaia di soldati ed ufficiali del Sud infatti furono internati e in molti casi morirono nei campi di concentramento tedeschi in Germania o in Polonia, perché restarono fedeli al giuramento al Re e rifiutarono di aderire all'esercito della Repubblica Sociale. Insomma, la resistenza nel Sud c'è stata, anche se frammentata in una miriade di episodi di cui spesso è stato difficile ricostruire la memoria. È importante quindi superare l'immagine di un mezzogiorno conservatore e filofascista. Il lavoro di recupero della memoria degli episodi di resistenza meridionali compiuti negli ultimi anni collega il Sud nel contesto nazionale e fa della guerra di liberazione un valore italiano, nel senso pieno del termine. In questo senso credo che la sensibilità dell'esperienza del Consiglio regionale piemontese sia da prendere a modello per contribuire a colmare un vuoto storico che ancora pesa sull'identità del mezzogiorno. Non me ne vogliate, se approfitto di questa occasione, per parlarvi di una strage dimenticata accaduta proprio nel Casertane, compiuta dai tedeschi in un casolare delle campagne di Gaaz e precisamente nella frazione di San Giovanni e Paolo la sera del 13 ottobre del 43. Una strage sconosciuta ai PUEF che fece 22 vittime, 4 uomini, 7 donne e 11 bambini di età compresa fra i 13 e i 16 anni, tutti trucidati con inaudita violenza per ordine di un giovane sottotenente identificato per Wolfgang Emden come riferisce Antimo Dallavalle, autore del libro Caiazzo non perdona il boia nazista. Ebbene, di questa strage, solo pochi anni fa si è avuta una condanna di questo sottotenente nazista che è poi andata anche in prescrizione. Questo ci fa capire come sarebbe stato importante che certi episodi, certe cose fossero state messe a conoscenza di noi, della politica e di tutti quelli che rappresentano le istituzioni per fare in modo che questi episodi non venissero prescritti. Grazie. Grazie a lei. E grazie per la precisione svizzera.